In questo video continuiamo a parlare dell'autostima e del codice umano. Continuiamo a prendere in esempio il caso di Pamela, una ragazza tanto piccola da sembrare innocente e indifesa. A 16 anni Pamela incontra Gianni, un bel ragazzo che la corteggia in modo simpatico e un po' esuberante. Vanni le fa spesso i complimenti, le dice per esempio ora che tu ho incontrato non posso più fare a meno di te. I complimenti vengono ricevuti attraverso il sistema emozionale di Pamela. E possono essere letti come frequenze che caricano l'anima animale attraverso il nutrimento del campo magnetoelettrico. La stessa carica potremmo chiamarla stima. Satura di stima, Pamela intraprende una relazione con Gianni e sente di star bene, di essere carica. Sente cioè che il campo magnetoelettrico è carico ed esplosivo. Potremmo definire questo fenomeno Trasposizione di amore egoistico, il quale è effettivamente molto efficace per caricare la vitalità. Fin qui tutto bene. La trasposizione di stima carica i meridiani, carica i chakra, carica i poli maggiori. Pamela riempie l'anima fino a sentire un'intensa estasi. Le conseguenze sono però che un'anima animale che presenta un eccesso di acqua come quello di Pamela, la quale abbiamo detto nel precedente video, che è debole nella stima e che continuamente si aspetta che ne riconoscano il valore, si lascia facilmente incantare dalla trasposizione di amore egoistico. In questo caso la stima ricevuta dall'anima animale di Pamela potrebbe essere convertita come dipendenza e quindi conseguente attaccamento. L'attaccamento è infatti un legame che denota l'illusione della felicità e che sottomette Pamela e la sua relativa anima animale alla dipendenza di ricevere amore. In questa fase l'anima animale si sente minacciata della privazione della stima di Vanni in quanto si nutre di questa e sentendosi minacciata si predispone al conflitto. La minaccia, cioè la paura di non poter ricevere stima-amore, spinge Pamela ad interpretare l'attrazione per Gianni come obiettivo da perseguire. Il conflitto è quindi latente e verrà contratto al primo accenno di distacco o privazione d'amore o di stima. È quasi come fosse un caso, che il caso non esiste, Gianni incontra ad un seminario una sua vecchia amica di nome Teresa, la quale è sia un'imprenditrice di successo, sia una fermata fotomodella. L'incontro fra i due viene accusato da Pamela come minaccia al secondo segmento, alla quale fanno capo le gonadi. L'evento viene percepito come terrore ed esaurisce completamente il secondo chakra. Il terrore si traduce poi in ossessione, la quale rimbomba nella testa di Pamela come un'odio spia e che cerca in realtà di rendere un servizio e di avvisarla di rimettere il sistema psicoemozionale in equilibrio. Ma ignorandola, o più semplicemente non sapendo come gestirla, Pamela si sente sempre più oppressa, fino a subire una deviazione di percorso al sesto chakra. Il meridiano compromesso è il setu pluriscaldatore, che è relazionato al sistema linfatico e al sistema difensivo. Pamela si sente stanca, debole, a lentezza nei movimenti. Sente di non essere all'altezza dell'evento. Desidererebbe rinunciare al forzato confronto interiore nei riguardi di Teresa. Accecata e bloccata dal trauma, Pamela matura tre credenze. Primo, Gianni è un obiettivo da perseguire. Secondo, Gianni è una proprietà a rischio, perché va difesa e potrebbe andare persa. Terzo, come faccio a vincere il confronto con Teresa? Non ho mezzi per competere e certamente perderò. Queste credenze sono il risultato dei conflitti di sottostima somatizzati, che hanno lo scopo di stimolare Daniela a controvertire la naturale insicurezza del codice dell'anima animale che offre debolezza di autostima. La natura egoistica dell'anima animale vorrebbe arrivare a essere la migliore e solo dopo palesare il suo talento in pubblico. Sente cioè che prima di esporsi dovrebbe essere la prima della classe, la migliore in assoluto. Solo dopo aver eseguito questo si sentirà pronta ad esporsi. Prima di allora si sentirà inadeguata e non pronta all'impresa. I complimenti di Gianni nutrono il deficit di autostima dell'anima animale, i quali la caricano per la corsa verso la dimostrazione ad essere la prima della classe. Per questo motivo Pamela accusa dipendenza da Gianni e per questo stesso motivo dovrebbe liberarsi della dipendenza, dell'aspettativa, del riconoscimento. Subendo sottostima e inadeguatezza, Pamela matura il potenziale di poter riconoscere la sua natura spirituale, cioè chi è. E' il potenziale di reagire alla distorta percezione dell'inadeguatezza dell'anima animale. La sottostima cerca di stimolarla ad un processo di liberazione e ad osare di lavorare su se stessa per offrire la sua unicità. Dedicarsi alla sua originalità smettendo di emulare persone o di fare paragoni. Usufruire del suo talento creativo e della forza emozionale per esprimersi al 100% nella sua missione. Esercitando l'esame dell'autostima, si immetterà volontariamente nella strada della felicità, la quale si dimostrerà la naturale scelta che avvantaggerà la profonda sensazione di libertà interiore. La felicità è infatti la conseguenza di aver imboccato la strada predestinata per noi, il quale sintomo è uno stato di vitalità alto verso la crescita interiore. Grazie a tutti.